metti metti un giorno all'ora solare in cui pensi quanto sarebbe bello avere in studio un'attrice brava brillante simpatica come apre bocca fa simpatia immediata è capace di fare proprio poliedrica di coprire tutti i ruoli insomma brava come se fosse tosca d'aquino che bella presentazione bellissima c'è tutto speriamo attenzione poi non ho detto di quanto sia brava essere mamma e comunque la presentiamo così moglie mamma attrice napoletana e su questo non ci vuole voi pensate che questa carriera fatta di fatta di di tantissimi passione e di passione è nata proprio perché tu hai rotto l'anima papà e mamma perché questo discorso di fare l'attrice tu lo dovevi proprio fare ma guarda fin da piccola domandano ecco a che età ti è venuto in mente cioè non c'è un'età io credo forse nella pancia di mia madre già di aver deciso quindi piccolissima bambina ero dalle suore e suore missionarie francescane di maria napoli e c'era un bellissimo teatro quindi dall'asilo fino alla terza media ogni anno c'era questo saggio e mi facevano fare sempre la protagonista ma va si vede che avevo proprio di già l'attitudine già lì suore a mia madre cioè signora questo deve fare l'attrice assolutamente ma comunque io ero proprio caparbia quando mi domandavano che cosa vuoi fare piccolissima l'attrice segue le cose proprio che ero decisa decisissima e ha avuto quando poi si è si ha ragione nella vita della decisione che si era presa piccoli che soddisfazione provate immaginare però questa soddisfazione passa e questo ci tengo sempre a sottolinearlo con triplo pennarello rosso dall'accademia d'arte drammatica silvio d'amico cioè la preparazione che bella questa è questa è la foto della mia famiglia mio marito mio figlio edoardo mio figlio francesco che meraviglia quanto siete belli il passare attraverso l'accademia significa quella formazione insomma tu vieni da una terra e da una città dove naturalmente naturalmente il teatro a cielo aperto perfetto però poi c'è il teatro teatro guarda su questo devo dire che sono state lungimiranti i miei genitori perché io ho già 14 anni lavoravo professionalmente lavoravo già in tutte le tv private napoletane poi sono entrata proprio il rai poi presenta facevo di tutto ma i miei genitori proprio questo dissero beh allora se vuoi fare questo lavoro deve fare assolutamente una scuola e pensa mio padre lasciò all'epoca lavorava la sip lasciò il lavoro a napoli si trasferì a roma quindi chiese questo trasferimento ci trasferimmo tutti a roma prima ancora di sapere l'esito di questo provino in accademia che probabilmente nella mia disperazione passai perché sai sentivo questo peso di responsabilità di aver fatto trasferire tutta la famiglia ecco però guardate questa fotografia questa è una giovanissima piccolissima grande maggiante che è massimo truisi il viaggio di capitan fracassi e bello allora per la parte televisiva mi basta ricordare fantastico con pippa baudo 1986 debutto poi pieraccioni leonardo pieraccioni nei film il ciclone il film di leonardo prima avevo fatto già laureati poi dopo il ciclone dopo il ciclone sicuramente ci fu una grossa notorietà perché un film che andò benissimo certo che senti ma pippo continua a dire il tuo inventato io questa è effettivamente un po è vero perché la prima trasmissione importante televisiva fantastico lo vedevano tutti lui mi scelse non sai quanti candidati che c'erano quindi mi scelse veramente lui io feci un provino con pippo sceglie quelli bravi e questo lo sappiamo perfettamente allora tosca ha questa caratteristica che è tanto bella e sei identica quando fanno questo tipo di complimento quale che sia il tuo lavoro fa sempre piacere lei è uguale vista in tv o vista di persona vista al cinema nei ruoli è chiaro che al cinema diventi un'altra persona ma allora questa spontaneità quest'amore per la vita questa tua solarità io credo che tu sia una rappresentante dell'ora solare infatti abbiamo fatto un centro perfetto è bella da vedere ma significa anche un saper stare con i piedi ben piantati per terra ma intanto con i piedi ben piantati per terra sicuramente il fatto di essere napoletana quello anche aiuta perché mia nonna diceva sì solo alla morte non c'è rimedio tutto si risolve poi io lo dico sempre sono una persona credente praticante e sicuramente dove c'è fede hai una marcia in più io lo dico a tutti pensa che un'amica carissima agnostica che dice io ti invidio perché tu credi hai fede e quindi io in qualche maniera mi sento sempre protetta ma qui glielo faccio io l'applauso allora sentite bene fiction in rai i bastardi di pizzo falcone era era lì che giravate vicino a pompei e cioè pizzo falcone abbiamo fatto tutto a napoli e quindi anche ci sono state delle location ma vedi eccolo qui il bellissimo santo gas ma tu hai colto l'occasione comunque per tornare dalla madonna di pompei allora no io vado sempre dalla madonna di pompei scusami non per la fiction cioè io sono credente praticante quindi una volta all'anno vado a trovare la madonna di pompei anche perché specialmente in tutte le mie cose belle come quando sono rimasta incinta chiedo sempre una grazia di protezione voglio dire protezione che c'è sempre la mia madonna di pompei ed è uno stare ecco per questo citavo i bastardi di pizzo falcone cioè nel senso se l'occasione assolutamente io vado però comunque anche senza lavoro una volta in più una volta in più il lavoro ecco questo mi piace quando anche se qui ovviamente il tuo personaggio personaggio particolarmente la divisa guarda che devo dire che è una grande responsabilità quello indossare questa divisa e quando la metti io sentivo veramente sai senti addosso il saper essere un altro tu mi dirai e certo è il lavoro dell'attrice però ogni volta si entra da un personaggio e se ne esce quanto rimane c'è un'affezione guarda il grande eduardo de filippo diceva ho assorbito avidamente e con pietà la vita di tanta gente però poi intanto un giudizio morale non ci deve essere mai perché in questo caso ottavia il mio personaggio fa parte dell'arma della polizia comunque sono una donna molto forte ma io spesso ho fatto anche ruoli di assassina di prostituta di ubriacone cioè voglio dire e non si può mai dare un giudizio morale come attrice tu lo devi proprio sposare questo personaggio diventi tu e fortunatamente un po ti rimane addosso nel senso che specialmente quando ho fatto delle cose molto drammatiche anche da ragazza fece tutta una cosa legata al problema della shoah c'è ti rimane addosso però fortunatamente poi ti devi sganciare altrimenti una domanda una domanda di la cosa è la curiosità del di chi sta dalla parte del pubblico perché è bello anche immaginare come tu giustamente detto è citato soltanto eduardo de filippo tutto quello tutto ciò si stratificano diventa diventa rigorosamente parte di noi allora l'importanza della famiglia tu sei mamma mamma sì mamma hanno a una distanza di età sì perché io ho avuto un primo matrimonio quindi una matrimonio purtroppo giovane quindi è anche finito voglio dire dove ho avuto il primo figlio eduardo ma pensa proprio per questo la famiglia mi sono immediatamente pensa risposata e ho fatto di nuovo questo errore che c'era stato soltanto e semplicemente perché eravamo un po giovani ecco abbiamo riformato un'altra bellissima famiglia con mio attuale marito ho fatto un secondo figlio quindi loro sono due fratelli tutti gli effetti perché sono cresciuti assolutamente insieme però per dirti ho finito un matrimonio ho iniziato un matrimonio senza quella sì quella amarezza o comunque quel qualcosa che potrebbe a volte nascere ora quanto sia brava in casa a cucinare manicaretti ce lo ha garantito qualche tempo fa su questa poltrona rossella brescia belle ripiene è stato questo tour teatrale avete cucinato sul campo allora intanto riprendiamo adesso a settembre ottobre si riprende la tournì sono siamo quattro artrice tutte carissime amiche perché chiaramente si riesce proprio una sorella ma c'è anche roberta lanfranchi e samuela sardo e io diciamo si fidano di te perché sei napoletana si fidano di me anche perché oggettivamente è difficile che una donna napoletana non sappia proprio cucinare dai su via però è vero anche che ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove sono tutti bravi cuochi per cui c'era il mio papà mio nonno mia nonna mia madre mio fratello cucina benissimo quindi è chiaro che nascere in una famiglia dove è normale sa io proprio tornavo a casa di mia nonna con questi profumi degli arrosti delle torte appena è più facile il tuo piatto il tuo piatto quello proprio con il quale con quella sicuramente tutti i piatti della tradizione napoletana insomma mi vengono abbastanza bene per cui il classico ragù napoletano noi lo teniamo 12 ore sul fuoco notare siamo passati a noi ecco qua qua abbiamo la curva napoli napoletana ha ragione ecco si diciamo ecco si deve peppiare dice perché il fuoco piccolo piccolo diventa proprio un sugo marrone però anche la parmigiana di melanzane anche il sarto di riso anche il gatto di patate e così potrei c'è gente che non ha mangiato io te lo dico prima è perché se no qui andiamo andiamo a finire però mi piace spaziare anche sono anche diciamo intraprendente per cui anche piatti un po diversi alternativi che possono essere cinesi messicane insomma mi diverte tutta la cucina meravigliosa la cina messicana napoletana di Tosca da qui non me la perderei per niente al mondo allora allora Giovanni ventidresimo padre Pio la conduzione di padre Pio è il testamento di un santo e qui parliamo siamo in casa con tv 2000 ecco tutto questo è venuto naturale anche in ragione di quella fede della quale abbiamo parlato poco fa insomma ma guarda sicuramente è normale che per me è più facile voglio dire perché ci credo è vero tutto è sincero ma sicuramente può condurre una serata su padre Pio anche una conduttrice o un conduttore che non credo che poi la scatti una professionalità indubbiamente mi chiamano anche perché a parte proprio il crederci io veramente vivo queste serate in una maniera proprio fisica perché sono spesso emozionantissime ti devo dire la verità sono per cui è una cosa che sicuramente dai ma ricevi tanto anche andare in questi luoghi sai come Petralcina voglio dire sono dei luoghi sacri io mi permetto di dire che forse sì è più quello che porti via quindi torni tanto più ricco tu rispetto a quanto assolutamente con professionalità perché quello fa parte dell'ora insomma uno non abbia potuto potuto dare potuto è potuto offrire ora la di solito ed è una cosa che a me non piace mai però queste domande si fanno non diritto io la faccio a te un po per contestarla si dice la mia attrice modello è mi sono rifatta al mito di e invece poi ci sono attrici per fortuna che non vogliono somigliare a nessuno e tu secondo me appartiene a questa bella squadra allora sono cresciuta sicuramente sono stata fortunata perché ho avuto due genitori come ti dicevo che mi hanno fatto amare molto il cinema per cui io sono cresciuta con tutto il neorealismo per cui le attrici mitiche parliamo di sofia loren parliamo di anna magnani di gina rubrigida insomma tutto questo film spettacolare che io vedevo incantata di film importanti ecco stiamo parlando di film che sono la storia rossellini desica germi eccetera eccetera quindi sicuramente questa è stata una fortuna per quanto mi riguarda perché ho avuto un'ispirazione veramente da queste grandissime attrici poi come dici tu ognuna di noi deve trovare la propria strada deve trovare la propria vedi qui è una festa esagerata questa è proprio una foto vedi ti ho dato una foto scattata così che facevamo il locandina col grande vincenzo sale e si e col quale poi ho avuto il piacere di lavorare in tanti film perché si creano un po questi rischi insomma quindi la capacità di essere per questo ho fatto ho fatto la premessa è sempre essere se stessi vuol dire mettere il proprio marchio senza alcuna beh questa è la foto ultima ora ci siamo visti pochissimo tempo fa con la bellissima madilde brandi con giorgino giorgino ma quel tuo giorgino era era diventata così tuttora pensa mi dice che sempre lo chiamano giorgino giorgino che era era una specie di incubo ma era un incubo bellissimo tormentone tormentone per lui torno per un istante alla foto di massimo troisi e nel viaggio di capitan fracassa dirigeva ettore scuola e anche qua ci alzeremo in piedi troppe volte poi sembrerebbe un insomma un gioco e non lo è che cosa che cosa ti ha insegnato questo ragazzo che arrivò con la sua napoletanità a cambiare il verso delle cose perché ricordiamolo lui cambiò il verso delle cose assolutamente massimo troisi di massimo troisi cosa ti è rimasto allora guarda intanto questo è stato un film forse uno degli ultimi grandi film italiani perché stiamo parlando di tre mesi all'interno di cine città completamente ricostruita questo bosco perché il viaggio di capitan fracassa stiamo parlando di cecchi gori vecchia proprio famiglia importante capito di cinema quindi questi grandi grandi cinema automaticamente stare tre mesi ogni giorno accanto a massimo troisi di può immaginare per me è stato veramente il più grande insegnamento perché lui aveva una spontaneità ecco lui non recitava mai era proprio se stesso e questa sua naturalezza ci credevi sempre qualsiasi cosa facesse anche un film del settecento e quindi questo assolutamente e poi e lui era proprio una persona deliziosa nella vita per cui le cose più belle al di là nel lavoro erano belle proprio dietro le quinte noi lo stare accanto a lui era sempre una sorpresa anche anche una poesia era un grande poeta guarda una persona veramente incredibile sempre con la battuta pronta un giorno venne a trovarmi mia madre e io lo racconto sempre perché un episodio carino e facevamo uno spettacolino quindi settecento per cui avevo un po di biacca in faccia effettivamente non era particolarmente donante allora massimo disse signor com'è come bella figlia vostra sai che si andava questo dal voi allora mia madre insomma mamma mia un mostro perché sai tutta bianca allora lui si girò e mi disse ah sta inguaiata perché si manco scarrafone è bella mamma tosca da quino grazie non avevo dubbi di questo ottimo eccellente gran finale tosca da quino grazie di essere stata con noi allora solare finestre spalancate ci vediamo tra un attimo grazie grazie grazie